classifichiamo le architetture del carnevale di sciacca finalmente basta bozzetti finalmente i carri sono costruiti almeno quasi ma comunque anche se manca qualche pezzo ad uno non fa niente l'importante è che proprio i principali ci siano e quindi cominciamo subito prima di iniziare ci tengo a dire che negli scorsi video mi sono arrivati dei commenti che diciamo non prendevano a cuore le mie classifiche ovviamente lo ripeto è personale fatta così per scherzo tanto per quindi solamente per divertimento e ci tengo a dire anche che le architetture saranno stra mega difficili da classificare quindi cominciamo con la resta dei conti allora la resta dei conti già gli avevano dato pure un video di movimenti mi pare è molto bello come carro so che a molti piace a sciacca devo dire che comunque è venuto bene non so perché i cavalieri li abbiano fatti così piccoli quelli di sotto però comunque hanno un movimento bello poi parleremo più avanti del movimento bello il fatto appunto insomma un bel carro dai il fatto che però i cavalieri siano piccoli e la donna sia così grande e un pochino poi il labbro è un po fatto però comunque dai è un bel carro un bel carro onestamente tra tutti quelli che ci sono regali è una cosa difficile ahiai non lo so metterei tipo aspetta ho bisogno di un momento ok mi sono fatto un quadro chiaro delle classifiche perché se no non ci riesco ora vedrete degli ex equi però io non ci posso fare niente perché mi piacciono tutti mettiamolo terzo ma non sarà l'unico terzo ve lo dico già il prossimo carro è vecchio cinema in paradiso dell'associazione culturale nuova parte 96 ed è fatto da dio anche questo regà bellissimo i colori tutto quanto è venuto stupendo cioè è bellissimo ragazzi è veramente stupendo questo carro cioè boh mi piace tutto di questo carro a partire anche dalle illuminazioni dei movimenti che ne hanno che li hanno fatti un po un po vedere insomma hanno fatto vedere un po di cose devo dire comunque ragazzi è fatto benissimo è fatto benissimo tutti i colori tutte le cose la faccia principale che sta significando tutte le nuove dirette è tutto perfetto ragazzi tutto perfetto con regeneration dall'altro perché loro comunque sono quelli che hanno fatto regeneration e devo dire mi piace molto sto esagerando forse non ne ho idea io me lo metto primo il prossimo carro è che ne vada la pena realizzato dell'associazione culturale anima e cuore allora so che mancano alcuni pezzi tipo le mani dei pupi di sotto però comunque è un bel carro devo dire è un bel carro ci sta però eh dal bozzetto differenza leggermente e ora vi spiego in che senso i pupi dal bozzetto sembravano tutta un'altra cosa qui sembrano quei pupi fatti così all'ad così tanto per però comunque dai ci sta in un bel carro proprio come nel bozzetto è venuto eh oddio però comunque dai ci sta ci sta ok diciamo che è accettabile lo metto al terzo posto pure lui il prossimo carro è l'apparenza inganna realizzato dalla associazione culturale nuova avventura anche questo regà è bello dato il fatto che però comunque ho visto che dall'anteprima della faccia principale dell'apparenza ingannevole quella quella sopra no che sembra tipo messicano prima aveva una faccia più triangolare ora ce l'ha diversa infatti aveva la barba più lunga gliel'hanno tagliata non so perché gliel'abbiano tagliata però gliel'hanno tagliata vabbè non non ci facciamo tanto caso è un bel carro ovviamente bello molto bello belli colori bello il tutto proprio come nel bozzetto anche se mi sarei aspettato una roba leggermente diversa tra i due Peppe e Napoleone tra i due Napoleoni perché quello originale sta davanti e lo sapevamo ma quello quello no quello che lui pensa sta davanti quello ingannevole mentre quello vero sta dietro dietro anche al pubo principale anche se dal bozzetto sembrava che stesse laterale vabbè non fa niente è un bel carro lo mettiamo al secondo posto il prossimo carro è le false verità realizzato dall'associazione culturale una nuova isola anche questo è un carro perfetto proprio come vecchio cinema in paradiso i colori il pupo principale è bellissimo è bellissimo proprio come nel bozzetto tutto perfetto tutto come si prevedeva tutto bellissimo veramente è stupendo è stupendo questo carro veramente non so che dirvi è qualcosa di bellissimo io onestamente anche questo lo so che due primi stoltano però anche questo raga primo perché si merita di tutto veramente complimenti primo posto l'ultimo carro allegorico si chiama Make Voice realizzato dall'associazione culturale Aurora 2008 questo carro come dal bozzetto anche esso è piccolo ok che è nato come minicarro però è bello è piccolo abbastanza però comunque alla fine il senso di architettura c'è i colori sono belli la faccia di Loredana ci sta il batterista tutto quanto non è male non è male però comunque leggermente leggermente inferiore agli altri c'è perché comunque tra tutti si nota che è il più piccolo si nota comunque vabbè lasciamostra ora faccio bello sì devo dire molto bello e niente questo non saprei se metterlo anche questo terzo exequo oppure quarto non saprei però comunque c'è stato tanto lavoro dietro so che tre exequi non sarebbero buoni però dai lo mettiamo terzo a fiducia quindi anche questa voce l'abbiamo fatta e niente questo è quanto vi saluto ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao